Nasce a Sassari un laboratorio politico di centrodestra. Per il momento i partiti che hanno scelto di collaborare e dialogare per la costruzione di una nuova coalizione moderata, liberale e alternativa alla sinistra sono quattro. Forza Italia, Italia Unica, Fratelli d'Italia e Movimento Cristiano. Giovedì sera dirigenti, militanti e simpatizzanti si sono ritrovati per discutere e impostare le prossime scadenze. Sentiamo Giancarlo Carta, consigliere regionale. Il centrodestra si presenta finalmente unito e parla dei problemi della città di Sassari. Sassari è in un momento difficilissimo e il centrodestra e tutti gli alleati, a partire da Forza Italia, si sono ricompattati finalmente per poter dare risposta alla nostra città. Risposta a una città che sta morendo, una città che è stata distrutta dal centrosinistra, da Nicola Sanna ma da tutto il PD sassarese, sia a livello locale che a livello regionale. All'interno di un'area e di valori condivisi e che sono chiari a chi ci vota, il discorso è aperto a tutte quelle forze che si ritrovano in quei valori. Quindi l'appello è a tutte quelle persone che non si riconoscono nella sinistra, non si riconoscono nei valori della sinistra ma che vogliono condividere con noi un percorso che porti al buon governo, onesto, sano e sicuro, al buon governo della città. Allora chiunque è ben accetto.